Il coordinamento Democrazia Costituzionale di Sanremo fa sapere che, come preannunciato nei mesi scorsi, i cittadini scenderanno in campo per salvare la Costituzione. La campagna si farà prima di tutto raccogliendo le 500.000 firme per ottenere l'indizione del referendum costituzionale. Un'autorevole delegazione del Comitato per il No nel referendum costituzionale sulla legge Renzi-Boschi guidata dal Presidente Alessandro Pace e del Comitato contro l'Italicum ha depositato ieri mattina presso la Suprema Corte di Cassazione a Roma il quesito con la richiesta di referendum come previsto dall'articolo 138 della Costituzione. Per sottoporre al giudizio popolare la legge costituzionale Boschi-Renzi approvata in via definitiva lo scorso 12 aprile e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 aprile. Hanno firmato la richiesta di inquisito autorevoli giuristi come Alessandro Pace, Massimo Villone, Luigi Ferraioli e l'ex giudice costituzionale Paolo Maddalena, il giudice Riccardo De Vito, i vice presidenti dei due comitati Alfiero Grandi e Anna Falcone, gli avvocati Antonio Pileggi e Enzo Palumbo, oltre ad Antonio Falomi, Giulia Rodanno, Vittorio Bardi, Paolo Palma, Franco Russo, Alfonso Gianni, Giovanni Russo Spena, Gianni Ferrara, Pierluigi Sernaglia. Si tratta di un'iniziativa dichiarato Alfiero Grandi che si rivolge alle elettrici e agli elettori e si è resa necessaria per sottolineare che le decisioni in materia costituzionale riguardano tutti i cittadini e che la volontà popolare deve entrare in campo immediatamente. A breve, quindi, anche in provincia di Imperia partirà la raccolta firme per ottenere il referendum costituzionale, un referendum chiesto dai cittadini e non dal governo perché il referendum è dei cittadini.